Oggi 3 ottobre stiamo concludendo il corso per la formazione di queste nuove figure di accompagnatori dell'enoturismo e lo facciamo qui presso la sede della Presidenza della Regione di Catania anche per sottolineare l'importanza di questo movimento che si sta sempre più formando in Sicilia che tende proprio alla valorizzazione del turismo rurale e del turismo presso le cantine siciliane. E' un nuovo trend interessantissimo, ci risulta che ci sono già dei numeri, soprattutto in questo periodo che stiamo già in un periodo di destagionalizzazione, sta funzionando il turismo straniero, ci sono molte visite di inglesi presso le cantine siciliane, ma non soltanto, anche questi turisti stanno comprando delle case nei centri storici Quindi c'è in atto qualcosa di veramente grosso in Sicilia che va seguito con razziocinio e con intelligenza L'importante, ed è quello che sempre predichiamo anche a questi nuovi cento accompagnatori dell'enoturismo è procedere con grande umiltà durante questo cammino Noi siamo operai al servizio della Sicilia, non siamo prime donne, non siamo protagonisti Noi soprattutto abbiamo la funzione di servire il territorio, di servire le sue bellezze soprattutto cercando di dare visibilità alle imprese, ai contadini, a coloro che tenacemente, caparbiamente e con molta capacità, stanno svolgendo quel compito importantissimo di essere guardiani del territorio Noi dobbiamo onore a loro, se ancora il paesaggio agrario siciliano è così bello com'è sono loro effettivamente che con il loro lavoro di contadini, con il nobilissimo lavoro dei contadini che svolgono stanno veramente difendendo questo territorio e tutelando il suo paesaggio Noi istituzioni lavoriamo per loro, lavoriamo con loro e cerchiamo di valorizzare attraverso lo sviluppo dell'enoturismo questa meravigliosa realtà che ha tutto veramente in questo momento il bisogno di farsi conoscere perché la Sicilia produce grande qualità, lo fa con numeri piccoli, lo fa in uno spazio di mercato che spesso rischia di essere soffocato dalle grandi catene di distribuzione e lo fa soprattutto difendendo dei valori che oggi stanno diventando i valori del nuovo mondo della terza fase industriale che sono quelle dell'energia pulita, delle energie rinnovabili quindi la Sicilia ha una bellissima storia da scrivere e una bellissima testimonianza da portare nel mondo siamo qui per aiutare questa gente di buona volontà a farsi conoscere e riconoscere per le loro virtù Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti! Grazie mille!